Ciao, ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera del salottino rosa. Allora amici, la vita deve continuare e anche se siamo sottoposti ad una prova molto grande, noi dobbiamo avere la forza di imporre una nostra quotidianità, perché è soltanto vivendo in questo modo che possiamo uscirne più forti. Io sono convinta di questa cosa ed è il motivo per cui oggi è martedì e martedì si parla di Wire. Grazie, grazie. Allora, martedì Wire amici, ho tirato fuori dalla mia libreria personale, wow, dal mio Sancta Sanctorum di libri, tanti, sul Wire, ma anche poi sul fai da te, sui colori, sugli abbinamenti, sui metalli, su tutu e su tuta, due libri che secondo me è molto interessante avere nella propria biblioteca e diciamo come bibliografia di Wire. Se siete interessati a questa tecnica, come lo sono io, che ne ho fatto il mio lavoro. Voi sapete, voi sapete amici, che questo canale è dedicato in parte al Wire, in parte al DIY, non escludo amici che ci siano altre novità nel futuro, ma sempre riguardanti la mia attività lavorativa che è quella del Wire, cioè della lavorazione dei fili metallici per realizzare oggetti. Allora, partiamo dal primo libro. Partiamo con questo che è Wirework, Illustrated Guide to the Art of Wire Wrapping, che è stato ovviamente di Interweave, che è questa casa editrice che si occupa di Fai da te, che ha molte riviste, ciao, mi, ciao, ben trovata, amore mio. Allora, è questa casa editrice, vi dicevo, per la quale io stessa ho fatto un tutorial che è stato pubblicato in una delle loro riviste. Questo bel libro, l'autrice è Dale, detta Cougar Armstrong, Dale Armstrong, ed è un libro tradizionale. Cosa intendo dire, amici, per tradizionale? Posiziono al centro. Mostra un tipo di Wire di tipo tradizionale, cioè il classico Wire che fa a meno della saldatura, ma che si basa e che si basa sull'intreccio. Perché tradizionale? La parte che è di grandissimo effetto, come è possibile vedere, come potrete vedere in queste immagini, è di un'eleganza veramente estrema, non è così difficile da realizzare, anche se l'impatto visivo è veramente forte, è davvero di una grande resa estetica, veramente notevole. Per quale motivo è così elegante, così bello? Perché si basa sull'utilizzo di fili metallici, che non sono solo preziosi, di solito preziosi, ma non necessariamente, perché questi fili metallici sono di forma diversa, hanno una sezione di forma sempre diversa, cioè qui si utilizzano sia dei fili rotondi, io dico così rotondi, con una sezione circolare, quelli che noi siamo abituati ad utilizzare, quindi, e che conoscete benissimo, sia i fili a sezione quadrata, sia i fili a sezione semi rotonda, che i fili a sezione, diciamo piatti, scusate, piatti, tanto per intenderci. Quindi, per riuscire a realizzare questo tipo di wire, bisogna essere molto attrezzati, riforniti, riforniti di fili diversi. Questo forse è anche il grande limite di questo tipo di wire tradizionale, in cui la signora Cougar Armstrong, Dale Cougar Armstrong, è molto forte, e tra l'altro questo bracciale che vedete in copertina, è famosissimo, e probabilmente, chi conosce un po' di wire, e conosce anche Pinterest, ad esempio, o altri siti internet, che parlano di gioielli e bigiotterie fatti a mano, probabilmente già conosce. La difficoltà, forse la cosa meno pratica, è proprio che tu ti devi rifornire di fili, che non solo hanno forma diversa, ma che devono avere anche un diametro sempre diverso, perché ti servirà una volta il filo da un millimetro, un'altra volta quello da 0,8, poi da 0,6, poi da 0,5, poi da 0,3, e così via. Quindi, voi capite che dovete avere veramente veramente una quantità di fili di base per realizzare un lavoro che potrebbe essere anche notevole, potrebbe essere, non è detto. E forse questo è l'unico limite, perché per il resto è molto bello, di grande effetto, è facile, lo so, visto così potrebbe non sembrare facile, questo tipo di wire, che io chiamo tradizionale per intenderci. sembra non facile, ma non è così, almeno sfogliando il bellissimo libro di Cougar, che tra l'altro, io vi vorrei dire, arriva anche con un DVD, un DVD, amici, in inglese, che ve lo dico a fare, anche il libro in inglese, tutti e due i libri che vi mostro sono in inglese, mi spiace dirvelo, ma è così. Passiamo ora al primissimo libro che si vede io ho praticamente consumato con gli occhi, con tutto, il primo libro wire della mia vita, sempre, no, questo è edito da Kalbach, Kalbach, beadandbuttoncraft, beadandcraftbooks.com, anche questo, anche questa è una casa editrice, che si occupa principalmente di cose fatte a mano, di tutto ciò che si può fare a mano, non soltanto wire, è un bel libro, si chiama Complete Guide to Making Wire Jewelry More Than 20 Step-by-Step Projects Art Jewelry Magazine, sono progetti, sono progetti tratti dalla rivista Art Jewelry Books Magazine, insomma, una selezione di progetti con cui è stato realizzato questo libro, che è veramente molto bello, è stato il mio primo libro, l'ho amato tantissimo come una bibbia, ora, anche qui dipende dal punto in cui siamo, dall'avanzamento del nostro studio, posso dire che per chi non conosce minimamente il wire, non sia facilissimo in tutti i progetti, però alcuni progetti sono a portata di chi comincia, assolutamente sì, io ero all'inizio, non sapevo nulla, e per me è stato un po' ostico approcciarmi a questo libro, vi devo dire che il risultato è diventato molto utile più avanti, nel tempo, mano a mano che acquisivo conoscenze nella tecnica wire ed esperienza nella tecnica wire, questo libro è diventato veramente prezioso ed importante, comunque c'è una selezione di progetti più facili, medi e avanzati, e per quelli avanzati insomma io li guardavo con tanta volontà di impararli, ma ci è voluto veramente del tempo, adesso ovviamente dopo dieci anni di tecnica wire naturalmente è tutto molto più semplice e molto più comprensibile, è un bel libro, è un bel libro essendo vario proponendo una serie di esempi e di lavori vari si adatta a tante esigenze e va incontro a tanti gusti, quindi è difficile classificarlo perché c'è un po' di tutto, c'è anche una sezione dedicata alle cold connections, cioè alle connessioni a freddo, ovvero quelle connessioni dove non c'è bisogno di conoscere, di sapere di sapere saldare praticamente e poi c'è qualcosa veramente poco sulla saldatura e qui c'è un po' tutto, c'è anche il Viking Knit che noi abbiamo trattato e poi ci sono c'è un po' anche di chain in mail, qualche progetto particolare, molto bello il Fleur de Lis che vi faccio vedere in queste immagini e altre cose diciamo che secondo me sono molto interessanti per chi comincia e per chi è anche ad uno stadio intermedio, tante idee, ancora oggi mi capita nel guardare Etsy, nello sfogliare il sito Etsy che è sempre forte, è sempre un grande sito, ancora oggi trovo progetti che sono stati copiati paro paro da questo libro, paro paro, ma l'ho fatto anche io all'inizio quindi non posso dire niente perché è stato così per me, anche per me all'inizio, però davvero ha avuto tantissimo successo, sarà che questi progetti sono tratti dalla rivista Art Jewelry Magazine, quindi probabilmente si sono diffusi a macchia d'olio e sì, rimane uno dei miei preferiti per la varietà di cose che propone, quindi fanno parte a diritto, con diritto della mia libreria, della mia bibliografia per quanto riguarda la tecnica wire. Amici, periodicamente ne parleremo, parleremo di libri e faremo tanti progetti. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un abbraccio, vi aspetto qui venerdì per il prossimo video, vi abbraccio vi ringrazio, ciao!